Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del Terratech Sono oggi un robottino a caso Ma perché? Avete perso un episodio e è successo qualcosa di mezzo che nessuno ha visto? Assolutamente no, semplicemente ho fatto dei test off camera E per farli appunto ho utilizzato altri tech, ho speso un po' di soldi Infatti non dovrebbero essere uguali all'ultimo episodio e robe così Detto questo, facciamo precipitare l'ultimo appunto tech creato Che dovrebbe essere questo qui Perché si ragazzi, l'episodio, blocchi mancanti Ok, penso di aver perso dei blocchi comunque Vabbè, li ricompriamo Non dovrebbe essere gravissima la cosa Penso, sapete che non lo so E se invece fosse grave, cioè se io non avessi lo shop per comprarli Strana la cosa però Perché in teoria doveva averceli, non li ho persi O forse sì Beh ok, posso comprarmi il terminale che mi sembra non avere E da questo qui sicuramente posso comprare le cose che mi servono Non so perché, non c'erano Comunque 21.000 Eppure mi sembrava di avere tutto ragazzi Non ne sono sicurissimo Però ecco qui quello che ci serviva Lo possiamo anche lasciare qui Tanto per il momento non è urgente levarlo Detto questo Comando questo qui E faccio precipitare quest'altro Che a questo punto, sbam, può cadere dal cielo Prendiamo possesso di quest'altro tech E questo qui lo facciamo assorbire di cattiveria Ragazzi L'ultima volta appunto ci siamo lasciati con questo lezzissimo tech Si possono già notare delle modifiche rispetto all'ultima volta Che ho provato un pochettino off camera E devo dire che così funziona Praticamente ho messo questi propulsori Che come si può vedere Fanno girare il tech un pochettino su se stesso anche in aria Si ok funziona Non è potente come si possa pensare Ecco fa un po' schifo Diciamolo che rettondo Ma voglio ripartire da questo progetto appunto Per non buttare il lavoro dell'ultimo episodio Che alla fine era buona la base L'unica cosa che effettivamente sarebbe a rivedere Sono ragazzi questi pezzi qui Ora qualcuno potrebbe non capire E qualcuno invece potrebbe anche capire Sì perché no Li sto girando Perché ragazzi? Perché fare un elicottero È un'impresa non impossibile Ci mancherebbe Ma molto molto difficile E soprattutto fare un quadricottero È ancora più difficile Mentre è veramente una cavolata Da fare Una roba simile Un aereo Molto potente Molto strano Ma che possa portare molto peso Soprattutto da guerra A questo punto Cos'è che mi serve? Mi servono le ruote dell'Aventure Io ne ho per fortuna Quattro precise Non so se è una casualità Oppure no però Per fortuna Me ne servono quattro E ne ho quattro In questo modo ragazzi Guardate Diciamo che va abbastanza bene Devo stare attento Perché qui è pieno di nemici Ragazzi rischiano di spaccarmi la base Quindi Diciamo che vorrei Prima che sia troppo tardi Mettere le armi Oppure no No perché tanto non sparano Se stanno lì No in effetti non sparano mica Quindi per il momento Lasciamo tutto così Dai che è meglio Tanto ci vogliono veramente Pochi secondi a farlo Ok Le ali non bastano Quindi Devo comprarne altre Andiamo qui Tanto non dovrebbero costare molto Ok destra Grande costa 300 luna E quella sinistra grande Vabbè Tanto ragazzi ne piglio un po' di più Ci serviranno poi magari Questo aggeggino qui Che è il radar Lo metto dietro Perché mi sembra molto più figo Messo dietro E a questo punto Andiamo a posizionare le ali Allora Una sinistra la mettiamo qua Un'altra da questa parte E poi a destra Messe così Ora sinceramente Io voglio strafare un pochettino Ne voglio mettere di più del normale Perché questa cosa? Perché praticamente Non so quanto regga Su un serio Questo tech qui Già ora come ora Dovrebbe volare Però siccome io Non me la voglio rischiare Più di tanto Perché magari Vado in un punto Che non è proprio il top Vorrei metterci anche Già subito due razzi Oppure lo provo direttamente Ragazzi No dai proviamolo prima Ho un po' di paura Perché come potete vedere Qua c'è un tech E se trovo qualcosa di Potente subito Sono nei casini Tra l'altro vorrei anche Alleggerirlo Perché tutta questa corazza qui Non serve a niente Quindi ok Così è perfetto L'abbiamo alleggerito tantissimo E niente ragazzi Non rimane che testarla A questo punto Però vorrei fare Prima un giro largo Perché Oh mio dio No si stava già sollevando Ok ragazzi Non mi ha visto No ok non mi ha visto Proviamo a utilizzarlo Direttamente così No Ci allontaniamo prima Che è meglio Ok ho triggerato qualcuno Ok ragazzi Sta partendo No non è ancora partito Però sta per partire Oh ma parte o non parte Sto coso Potrei anche aver messo Dei ali di troppo Da qualche parte Ok ha un problema Oh mio dio Cade un nemico Ha un problema basilare Praticamente Non si solleva la terra Funzionerebbe Ma non si solleva da terra A questo punto ragazzi No che idea Che mi è venuta Che idea Ci sono queste ali qui Che sono carine Non sono delle spettacolari Comunque ragazzi Tranquilli che questo qui vola Cioè Se ora è più una rampa Che potrebbe essere Realmente quella La rampa Quindi ve lo faccio Anche vedere Vola sul serio Però mi è venuta Un'idea Possiamo usare Le ali quelle potentissime Le più potenti del gioco Quindi prima di tutto Però voglio farvi vedere Che funziona benissimo C'è un problema Di base Ovvero che Si è tipo incastrato Ok vabbè Facciamo che non usiamo Questa rampa qui Che mi sembra abbastanza Pericolosa E passiamo alla prossima Sì ma mo come faccio Mi si è incastrato qui Ok Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Perfetto Perfetto Mamma mia Che impresa Comunque dai Proviamolo qua Guardate Ok Come si può vedere Funziona perfettamente L'unico problema È che appunto Deve prendere una rampa Di lancio E non è il massimo Che un aereo Debo per forza Usare una rampa di lancio Però come potete vedere Si governa benissimo Funziona benissimo Il punto è che Si può vedere subito Che se io ora Lo lascio così fare Guardate un attimo La punta Appunto va verso il basso Questo è ciò che Non permette al mio tech Di sollevarsi da terra Se invece Di su Andasse verso l'alto Ci riuscirebbe Senza grossi problemi Quindi questa cosa qui Va rimediata assolutamente E appunto Pensavo di farlo Con le ali più fighe Che almeno Io abbia mai visto Ma suppongo anche voi Già che non ce ne sono Molte altre su questo gioco Io devo lavorare comunque Sugli atterraggi E so già che mi schianterò Però forse no Forse no Forse no Dai 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 Ma un bel atterraggio Devo dire Potevo fare di meglio Ma potevo anche fare di peggio Quindi Di cosa sto parlando io Di preciso Con le ali strafighe E che soprattutto Renderebbero il tech Molto più accattivante Alla vista Ora ve lo faccio vedere Ma non so se le ho sbloccate Cioè sicuramente Devo comprarle Molte Spenderò un patrimonio Lo so già Però va fatto Ok no Ce le ho già alcune Alcune le ho già Ma devo comprarne sicuramente altre Praticamente vi faccio vedere Queste ali qui Guarda un pochettino Le posso mettere Direttamente Qua dietro Tipo che ne so Le metto Una Una qua davanti Anche magari Però in effetti Mi mancano due pezzi Quindi ora Non capite proprio tanto Ma ora vi faccio vedere Ah ok Ne avevo già uno di questi Effettivamente Prima non l'ho visto Vabbè Comunque non ho voglia Di fare i calcoli Quindi prendo un pochettino Le ali a cato Scusatemi se le prendo troppe Ma magari le useremo in futuro Poi non è che costino tantissimo Guardate E prendo anche un po' di punte Che queste qui ne serviranno Ovviamente un po' di più Quindi Questa qui Ragazzi È l'ala normale Mentre questa qui Che ho messo da quest'altra parte Appunto È la punta dell'ala A cosa serve la punta dell'ala Non lo so Penso che aiuti L'ala Ciò che deve fare Suppongo Non ne sono sicurissimo Ma comunque dovrebbe essere Una roba simile E anche qui Ci metto Questo pezzo Ora non so effettivamente Se sarebbe più figo Farlo tutto allungato Oppure no Perché anche così Ragazzi ci sta Poi ovviamente Sì ne vorrei mettere Una anche da questa parte Così Perché ragazzi Fa tipo ala dietro Che curva a destra a sinistra E ora magari Ve la spiego Un po' meglio Il suo funzionamento Che comunque Ripeto È molto basilare E c'è qualcosa di Assolutamente Non simmetrico davanti Quindi devo rimediare Magari ecco Anche davanti Lo metto così Perfetto Perfetto Quindi modalità normale E vi spiego il funzionamento Allora Purtroppo Quando è a terra Non è in modalità volo Quindi non si vede Pienamente cosa fa Però guardate Se io vado a destra O a sinistra Come si può vedere Girano soltanto queste qui in alto E non girano tutte le altre Quindi questo qui ci aiuterà in volo Mentre queste qui Prendendo la S E l'OpAV Per andare in basso o in alto Funzioneranno in teoria bene Proviamo a questo punto Ora A farlo volare In teoria dovrebbe decollare Ma appunto Ripeto la mia è una teoria Ok Ok E' decollato da solo Perfetto Come si può vedere Questo qui rimane Perfettamente Parallelo al terreno Ogni tanto no Ogni tanto si inclinava verso il basso Quindi Andando a mettere un pochettino di peso Si rischia Che non ci sollevi da solo Ma comunque queste qui Sono cazzatine Fidatevi E' molto più governabile Rispetto a prima E devo dire Assolutamente anche più figlio Guardate l'ombra ragazzi Che figata Ora l'unica cosa che Sinceramente ci tengo Veramente a fare Assolutamente E mettere le armi Quindi atterriamo Stando attenti A non avvicinarci troppo al boss E ovviamente Su un tech così Dobbiamo metterci i razzi Dove le andrò a mettere i razzi? Beh Ho visto che sulle ruote Ci stanno molto bene Quindi questa ruota qui Non so Forse devo girare quest'altra Non so quale sia l'attacco Comunque ora si vede Ok Questo qui l'attacco Ce l'è esterno Quindi questo qui Va girato dalla parte opposta Così E in questo modo Appunto Posso metterci Un mega razzo qui Che ovviamente Devo sistemare Poi perché Lo messi totalmente a caso Uno tutto in avanti Uno tutto indietro Dai Mettiamoli Anzi magari se li metto indietro Vado a pesantire Di più la parte dietro Quindi forse Forse è meglio Ok E da provare a questo punto Laggiù c'è un nemico Se sparo In teoria i razzi Non partono Appunto Strusciano per terra Quindi non partiranno mai Vediamo se decolla Sì ragazzi Si stacca dal terreno Però non ce l'ho fatta decollare Perché sono un pirla Devo prendere un momento Purtroppo ragazzi Dall'ombra Devo vedere quando si alza Perché sono un pirla In un momento giusto Non si alza Ok Se lo metto tipo così Dovrei vederlo meglio Ok Perfetto Ci siamo Ci siamo Quindi Il nostro tech è in volo Io allontano al massimo la distanza Perché ovviamente Dobbiamo vedere da lontanissimo Il tech Un tech è così grosso E che vola Perché ragazzi È veramente enorme Ma visto da lontano E a questo punto proviamolo Allora non contro di lui Ma io direi decisamente Contro il boss Che è caduto prima Quindi andiamo contro il boss Che dovrebbe essere tipo Eccolo qua Dovrebbe essere questo Sulla sinistra Ci avviciniamo Non voglio andarci in picchiata Forse siamo L'abbiamo lasciato troppo lontani L'abbiamo colpito una volta Perfetto Lui non ci ha beccato E' meglio così Perché non abbiamo ne scudi Né niente Riproviamoci Secondo attacco Lui sta ancora lampeggiando E sono arrivati Uuu Due colpi pieni questi Questi hanno due colpi pieni Dai forse Con l'ultimo attacco Ce la facciamo Purtroppo ragazzi Ora va Va ridimensionato Va fatto un po' tutto Bisogna vedere un attimo Le misure Tutte queste cose qui Perché se no è un casino L'ho sparato un po' tardi Ma l'ho beccato in pieno Anche stavolta con tutti e due Ragazzi Ce la facciamo Ce la facciamo Diciamo questo qui È un modo diverso di giocare Più lento E forse anche più divertente Ma Ma bisogna stare molto più attenti qua Perché basta In teoria qualche colpo Messo bene da parte sua Sono avuto sei razzi E noi siamo morti Però devo dire Figo figo Funziona soprattutto Quindi ragazzi Uccidiamo un boss Che non è roba da poco Uccidere un boss Poi atterriamo E salviamo il tech No L'ho preso male ragazzi Scusatemi Colpa mia Colpa mia Ho fatto una curvatura sbagliata Ok Guardate che bello Ora qui ci andiamo un pochettino Impicchiata Anche se non lo miro Guardate come si becca bene E l'abbiamo eliminato ragazzi L'abbiamo eliminato A questo punto Senza accelerare Piano piano Si atterra Il bello di questo tech qui ragazzi È che avendo appunto Queste duelli Che è totalmente a destra E totalmente a sinistra Gira su se stesso In un modo bellissimo E appunto In questo momento Sta girando su se stesso Non grazie alle ruote Ma appunto Grazie Alle eliche che ha allato Il problema qual è? Che anche un tech Come potete vedere Quello lì piccino A sinistra Potrebbe uccidermi In questo momento Perché i miei missili Non possono fare nulla Se non sono in aria E questa è una cosa Parecchio brutta Ma che possiamo rimediare Tra l'altro Qui vedo una batteria Boh magari Sono cose che puoi anche prendere Non è male Ma prima ragazzi Prima Voglio uccidere anche lui Ormai ci ho preso gusto Però qui sta cadendo un nemico Devo stare attento Mamma mia Ok Lì poteva andare Veramente male Devo dirlo Meno male che sono scappato Perché sono velocissimo Ecco però Un coso come lui Che ad esempio C'ha i direzionali E basta di buono No Qua mi schianto Ok Uuu Accidenti Mi esplosa un'ala C'è un pezzo di un'ala Vabbè non è gravissimo Vogliamo lo stesso Però ecco Stavo dicendo Un coso come quello là È totalmente svantaggiato Contro di noi Perché c'ha soltanto I direzionali di buono Quindi con i direzionali Fa poco o niente Detto chiaro e tondo Perché spara in avanti Comunque non c'è più È scappato Mi sa di sì Vabbè Ce ne torniamo alla base Al limite Sì non c'è più qua E non c'è più nemmeno Il cosettino di prima Beh infatti sì ripeto Sono distrutto Torniamo alla base Ripariamoci E poi Salviamo i progressi Ragazzi Perché un cosettino così Non lo voglio utilizzare Attualmente Perché alla fine Ve l'avevo promesso Si è fatto Eccolo qui Guardate che figo Però ora come ora Non voglio utilizzarlo Perché ragazzi Bisogna andare avanti Con delle missioni Veramente fighe E appunto Le missioni vanno fatte Con dei tech potentissimi Dei carri armati giganti E non con questa cosa qui Perché Se no io ve lo dico Tanto metto anche questo pezzo Facendo le missioni Che abbiamo fatto in passato Con un tech così È vero che Non ci ammazzano Cioè tra l'altro Se va bene Però Capiamoci Un colosso Della geocorporation Che magari ci vogliono Già con il mio carri armato normale 5 minuti a ucciderlo Figuriamoci con un cosa così Cioè ci si deve girare Intorno 20 ore Veramente Comunque dai Sono soddisfatto Di appunto ciò che abbiamo fatto Player tech Io non voglio salvarlo per ora Perché non mi ricordo Su che slot l'ho salvato prima Ok il 3 è giusto Quindi in questo modo Andiamo a sovrascrivere Il nostro drone precedente Che volava Ma Diciamo Non proprio Quindi sovrascriviamo Salvataggio fatto E a questo punto Possiamo distruggere questo tech E farlo precipitare In qualsiasi momento Dovessimo avere bisogno Detto questo ragazzi Come promesso Siamo usciti a volare In grande stile E anche distruggendo tutti i nemici E spero che questo video Lo bellissimo vi sia piaciuto E quindi Ciao a tutti